Amici di Sky, appassionati di calcio, benvenuti al Dallara, Bologna. Questa è Bologna-Napoli. Un saluto da Piero Gipardo e da Beppe Savoldi. Mannini. Voleva il pallone direttamente Amsic. Mannini, prova! Destro che termina alto non di molto. Occhio alla battuta del calcio all'angolo sul secondo palo a cercare Zalaceta. Che ripropone per Santa Croce. Si gira la risposta di Antonioni. Tutto il Napoli a difesa della propria area di rigore. Partia da Hilton. Non è largo. Amoroso. Insolitamente a destra. Buono lo scambio con Zenoni. Dentro da Hilton è Divaio. Cross verso Divaio sul secondo palo. Divaio! Pallone sull'esterno. Buono il tocco verso da Hilton. Possibilità per il Bologna. Ancora da Hilton. Con l'apertura su Zenoni. Zenoni, prova! Prova! Largo. C'era Divaio dentro che poteva toccare. Occhio alla battuta dentro. Cercare terzi. Colpo di testa alto. Lasi. Ecco Gargano. Prova a partire Zalaceta. Palla per lui. Zalaceta. Occasione. Zalaceta. Il Panferon. Antonioli. Risponde. Mudingai. Difende il pallone sull'assalto del nuovo arrivato Russotto. Poi c'è anche Denis da quelle parti. Lo scambio con Marazzina. Prova Mudingai. C'è anello. Sicuro. Russotto. Possibilità per il cross. Vediamo se arriva adesso. Ancora Russotto. Prova l'iniziativa. Quindi cerca il tanche. Che va giù. Vediamo cosa decida Iroldi. L'uomo ne esce. Sì. Cartellino giallo per lui. Occhio alla battuta dentro. Colpo di testa. 1-0. E il tanche. Denis. Cambia la storia. Al minuto 87. E qui arriva il fischio finale. Il Napoli vince a Bologna. Continua nella sua striscia dei risultati utili. Ci sono dieci. Adesso sale a quota undici. Altissima quota per il Bologna. È crisi. È arrivato.